La programmazione e la concertazione delle risorse rivenienti dal recovery e dalla politica di coesione sono basilari per intercettare al meglio le opportunità di investimento e recuperare il divario strutturale Nord-Sud segnalato da Svimez. Le risorse da sole non bastano senza l'individuazione di priorità. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Pittella che aggiunge «Ciò vale anche per la nostra Basilicata, tardiva nella programmazione e fiacca nel merito. Se il PNRR è un serbatoio per realizzare progettualità che consegnano un futuro ai nostri territori allora si riprendano con vigore il piano delle ZES e delle fiscalità di vantaggio per attrarre investimenti ed accompagnarli con politiche attive per il lavoro. Si riprenda la cultura che è stato investimento produttivo per la Basilicata negli ultimi anni ed un piano per rinnovazione tecnologica. Si chiuda la vicenda Stellantis e si faccia sul serio sulla transizione ecologica. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, conclude Pittella, è l'ennesima occasione per il Sud e non può essere rituale stanco. E per la Basilicata l'auspicio è che non resti imbrigliato nelle maglie di un governo regionale svogliato ed autoreferenziale. Grazie a tutti! Grazie a tutti